Per chi ragazzi non lo sapesse, oggi martedì 12 febbraio sono diventato partner Supercell La mia carriera è iniziata facendo i video su YouTube di Clash Royale Il mio più vecchio è 7 anni fa e per festeggiare questo nuovo traguardo raggiunto Perché essere partner Supercell è incredibile, volevo reactarlo insieme a voi in questo video Quindi non voglio neanche farvi perdere tempo, ah ovviamente raga mi hanno dato il codice creatore E sapete sicuramente qual è, il codice è Siuderone, quindi voi col dittino swappate in basso dove c'è lo shop e inserite Siuderone Mi raccomando, signori ci spostiamo un attimino, questa è la mia pagina YouTube Al contrario, quindi dove i video sono i meno recenti e lo vado a vedere insieme a voi In full Il titolo si chiama DEC 4000+, no jamming Clash Royale It ha caricato il, non mi devo, allora, caricato il 25 gennaio 2017 raga Dura 4 minuti, andiamo Full cam A questo, ragazzi, benvenuti a questo mio primo video di Clash Royale Verdo Ho deciso di cominciare a fare qualche video perché Ma che voce avevo? Siamo in una situazione Tragica direi Di stallo No, no, tragica proprio Cioè io sono arrivato ad avere questo deck Si, livello 2 Il tronco Quasi un anno di gioco Shoppando 10 euro 10 euro avevo già shoppato La prima volta che hanno fatto Sono io, sono io La mia offerta Con l'aggiornamento che uscì qualche mese fa Vorrei un secondo soffermarmi sul deck un attimino Intanto la voce mi fa ieri un po' da piangere perché Sette anni sono veramente tanti Ogrider livello 9 Minipekka livello 9 Moschino livello 9 Fireball livello 8 Poi giocavo con la fornace Qui già vedo una combo notevole Cioè abbiamo Spiritino di fuoco a livello 11 Come è possibile Con la fornace a livello 8 Tronco a livello 2 Probabilmente perché è una delle pochissime leggendarie che avevo E zappetta all'11 Il baule leggendario 100.000 gold Orkugyuda E 1200 gemme 10 euro li presi Però sono arrivato fino a qui Adesso io voglio Condividere con voi una partita Condividiamola Un secondo La situazione Arena 10 È veramente forte È veramente forte il deck Ma inizio a trovare gente che secondo me ha scioppato parecchio Sì abbiamo Bowler J-Man Che lui non sa di essere famoso Buona fortuna dice il bowler Buona fortuna E la pallafuoco Subito pallafuoco su fornace Vediamo un po' di pulire Secondo me la perdo raga 100-100 E ti mi ride in faccia Sì non è che si deve pallafuocare mai una fornace Ma Giustamente Certo non posso partire Cos'è? Telefono Ma che cos'è sta roba? Aia Stava suando il telefono Non vale Però grande il tronco Ma come sta suando il telefono? E telefono Vediamo subito il caso che vola I tripli spiriti del fuoco Aspetta Porca vacca Vai 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 allo grinder così Messo 100 al fondo Lui si scopre così La fireball Ah non è partita la fireball Questi gli li pallafuocerei Proprio easy Vai 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 Un momento Guarda lì l'armata delle tenebre Armato delle tenebre Aspetta Niente È una valida molto Un momento Un momento E questa è per festeggia Allora Aspetta un attimo Ok nice Che mette Bello il moschettere che va a one shotare Lascia andare il moschettere 1 2 3 4 Ops Ne direi pure io Ops Mini pecca intanto è lì a far la muffa Lui gioca Non ha molte Le pepere Ma come le pepere Ma cos'è General tuve Tronchino dove sei Uuuuuh Uuuuh Il tronchino spinge via Un momento Distrugge tutte le paperelle infuocate Ma non sono le papere Di nuovo con lo grader Dentro con lo grader Ancora su fornace direttore Mi piacca moschettiere Super fireball centrale Questo qua gioca con lo specchio Telefono Pronto Dove sono? Ma che cos'è? Perché mi chiamavano dal lavoro? Per noi Bella partita Grazie Bella partita Anche per la fornace a destra Di là Niente Ah lui si A rete così Di là L'oxeterone che si può E ride Che ne dite ragazzi? Beh io dico Non è male come video Fatemelo sapere Male come video? Boh Spolliciate Spolliciate Fatemi qualche commento E ditemi se si potrebbe Secondo voi Migliorare qualcosa Sì tipo la voce ad esempio È veramente un grande Ciao Alla prossima Merda raga Beh io questo video L'ho voluto registrare Per festeggiare Tante cose Tante cose I sette anni Di carriera Che oramai ci sono passati Da qualche giorno L'ingresso Come partner ufficiale In Supercell E insomma Tutto quello che stiamo Continuando a fare insieme Quindi Spolliciate Grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.